Questa non è ideologia, è che la cannabis con i principi attivi che oggi si è consumata, particolarmente dai minorenni, gli distrugge la salute, gli fa avere tutta una serie di patologie che si porta dietro per tutta la vita. Allora, scusate, se una cosa, parlo anche della cocaina, dell'eroina, fa male, un medico si piglia la responsabilità di simonistrare una persona un veleno? Questa era la voce di Carlo Giovanardi, uno dei protagonisti della guerra alla droga nel nostro paese. Portava il suo nome una legge, la Fini Giovanardi, che aumentava le pene ed equiparava la cannabis alle droghe pesanti. Questa legge, nel 2014, è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale ed è decaduta. Nel frattempo, però, negli otto anni in cui è stata in vigore, ha portato in carcere un sacco di gente, ingiustamente. Giovanardi, lo avete sentito, usava, e usa ancora, un vecchio cavallo di battaglia, l'argomento del bene dei giovani, molto caro a tanti oppositori della legalizzazione. È per proteggere i ragazzi, dicono, che le cose devono rimanere come sono. Ma come sono le cose oggi per i giovani? E come li abbiamo protetti finora? Sono Antonella Soldo e questo è Tutto Fumo, un podcast che racconta perché la cannabis e la legalizzazione sono anche affari vostri. Tutto Fumo è un podcast prodotto da Emos Record e Meglio Legale, con il contributo di Enecta. Puntata 4. Per il bene dei giovani Vi racconto una storia che comincia in una scuola. È l'ultima ora di una giornata passata come le altre, scandita dalle lezioni di storia, latino e algebra. Nella classe di Francesco è andato tutto come ogni giorno. Qualche interrogazione, qualche bel voto, qualcuno un po' meno. È l'ultima ora, dicevamo, quella che non passa mai. Il nostro protagonista mette via tutte le sue cose nello zaino e aspetta che suoni la campanella per precipitarsi fuori. E quando suona, fila via insieme a un flusso di ragazzi che si affolla sulle scale del liceo e poi si imbottiglia davanti all'ingresso per riversarsi in strada. Avete presente cosa accade all'uscita di una scuola, quando la massa di studenti sembra una massa di energia che esplode? Francesco gioca nella squadra di calcio, a quanto dicono se la cava proprio bene e se riesce a sbrigarsi, quel pomeriggio agli allenamenti. Passo svelto è a metà del cortile, quando accade qualcosa. Lui però non fa in tempo a capire cosa. Il vortice dei ragazzi rallenta fin quasi a fermarsi, si fa silenzio e, all'improvviso, davanti a lui si materializza un cane. È uno di quei bellissimi pastori tedeschi che si vedono nei film polizieschi, però quello non è un film. E il cane ringhia proprio contro di lui. Abbaia forte contro la sua tasca. Francesco è intontito, mette la mano in tasca e tira fuori un involucro accartocciato con della pellicola. Dentro c'è un pezzetto di hashish. In un attimo si trova circondato dagli uomini della guardia di finanza. Quanti sono? Due? Dieci? Non lo sa, gli sembrano moltissimi. Ci sono delle macchine, ci sono altri cani e lui si sente piccolo piccolo di fronte a questi uomini in divisa che gli stanno davanti come grandi statue di pietra. Intorno a lui si crea il vuoto. Il vuoto di tutti i compagni che lo guardano, di tutta la scuola che lo addita, degli insegnanti che chissà cosa penseranno. Guarda tutto questo con la coda dell'occhio. È come se lo guardasse da fuori, però c'è dentro. I finanziari lo fanno salire in macchina e lo portano a casa per finire la perquisizione. È d'obbligo, dicono. Ad aprire la porta è sua madre. Gli uomini della guardia di finanza entrano e chiedono di vedere la stanza del ragazzo. Lui stesso ha confessato di tenere lì qualche altro grammo di hashish. La donna fa strada agli agenti, mentre Francesco resta sul divano a fissare il vuoto. Lì fuori c'è il suo paese. I paesi, si sa, sono fatti di materiali infiammabili. E tanto più sono piccoli, tanto più sono infiammabili. Basta un niente a far divampare l'incendio della diceria e dell'infamia. I vicini si affacciano, si chiedono perché ci siano tutte quelle auto lì sotto, a casa di chi sono andati i finanzieri. E piano piano Francesco sente crescere questa pressione, la pressione della vergogna, la paura di aver rovinato tutto, per sempre. Forse è questo quello che ha pensato. Dico forse perché non lo sappiamo e non lo sapremo. Non potremo mai sapere che cosa ha attraversato la testa di un ragazzo di 16 anni mentre faceva gli ultimi tre passi della sua vita, quelli per raggiungere il balcone e lanciarsi nel vuoto, uccidendosi. Francesco è un nome di fantasia, però questa storia è successa davvero nel febbraio del 2017 a Lavagna, un piccolo comune vicino Genova. In questa vicenda ci sono altri particolari, quelli che riguardano il rapporto del ragazzo con la famiglia, quello con la mamma. Era stata lei a chiamare la finanza, quando ha scoperto che suo figlio fumava, si è spaventata e ha pensato che fosse la cosa più giusta da fare. Ci sono i non detti, le incomprensioni, le paure di un adolescente uguale e diverso dagli altri, sulle quali non è giusto fare alcuna supposizione. Quello che dobbiamo sapere lo sappiamo già, e cioè che il sistema che doveva proteggere Francesco ha fallito. Le leggi che dovevano difenderlo dalla droga prima lo hanno mandato nelle mani di qualche spacciatore, poi, criminalizzandolo, lo hanno spinto a un gesto estremo. Come Ministero abbiamo tirato fuori un po' di soldini per un progetto pilota che è la prima volta che portiamo avanti e vedremo con che risultati entro ottobre avremo, e ci riconvocheremo qua i risultati di questa iniziativa, scuole sicure che riguarda le 15 principali città italiane con un investimento di 2 milioni e mezzo di euro che andranno investiti in impianti di videosorveglianza, in assunzioni temporanee di vigili urbani, in pagamento di prestazioni di lavoro straordinario del personale della Polizia Locale, in campagne informative per fare una battaglia antidroga, quartiere per quartiere, scuola per scuola, penso che siano 2 milioni e mezzo di euro ben spesi, non c'è nessun rastrellamento, non ci saranno i Doberman o i carri armati fuori dagli istituti scolastici, ci sarà un'opera di attenzione e prevenzione nei dintorni dei plessi scolastici, anche in base alle segnalazioni che i sindaci e i dirigenti scolastici concorderanno con le prefetture, quindi qualcosa di assolutamente soft, ma di efficace, non punitivo, ma preventivo. Quella di Francesco non è l'unica vicenda. Una storia analoga è accaduta due anni dopo questi fatti nel 2019 a Guidonia, vicino Roma, quando un altro giovane si è lanciato dal quarto piano durante un litigio con i genitori, che avevano scoperto in un cassetto un grinder, un oggetto che si usa per trinciare l'erba prima di rollarla e che si vende in qualsiasi tabaccheria. Certo, questi sono esiti tragici, causati da una concomitanza di fattori che è difficile anche solo immaginare. Però non dobbiamo dimenticare la cornice di criminalizzazione nei quali avvengono. La pratica dei controlli nelle scuole, dei cani antidroga portati a scorazzare tra i banchi, è una tradizione dura a morire nel nostro paese. Si è sempre fatta e si continua a fare. Quando le scuole hanno riaperto dopo la pandemia, è una delle prime cose che è ricominciata. Uno che ne andava particolarmente orgoglioso, lo abbiamo sentito, era l'allora ministro dell'interno Matteo Salvini, a cui si deve un report, nel 2018, molto dettagliato su questa attività nel corso del suo mandato. Per il progetto Scuole Sicure, così l'avevano chiamato, il governo aveva stanziato 2 milioni e mezzo di euro, impiegando oltre 26.000 agenti delle forze dell'ordine, per andare a setacciare le scuole, zaino per zaino, stanza per stanza, studente per studente. Il risultato di questa operazione, dopo diversi mesi, si è rivelato assai magro. Vi cito alcuni esempi. Sono tutte cose pubbliche, rese note dalla stampa. In una scuola di Napoli, hanno denudato due studenti nei bagni e li hanno perquisiti corporalmente e non hanno trovato un bel nulla. A Sanremo, hanno messo a suo quadro tutta la scuola e hanno trovato uno spinello spento davanti alla porta. A Latina, i cani nelle scuole hanno scovato una piccola quantità di droga, non meglio specificata, nella fessura di una porta e potrei continuare così, elencando decine e decine di operazioni come queste. Tutte insieme, portarono al sequestro dello 0,004% del totale dei sequestri di quell'anno. Sì, lo 0,004%. Un ottimo investimento, insomma. Anche quest'anno sono stati stanziati oltre 2 milioni di euro per finanziare gli straordinari delle forze dell'ordine per il progetto Scuole Sicure, che di sicuro ha solo il fatto che metterà nei guai un bel po' di adolescenti. Ma non riuscirà a proteggerli, non riuscirà a tenerli lontani dal contatto con la criminalità organizzata, non spiegherà a loro i rischi dell'uso delle sostanze e soprattutto non li salverà dallo stigma della criminalizzazione. La chiamano guerra alla droga, ma invece di prendere grandi narcotrafficanti, manda i cani nelle scuole. L'Italia è il paese europeo con le leggi sulle droghe più severe d'Europa, insieme a Francia e Svezia. E sapete quali sono i paesi europei dove il consumo di sostanze da parte dei minori è tra i più alti? Italia, Francia e Svezia. Questi sono i dati dello studio ESPAD, lo studio europeo più autorevole in materia. La severità delle leggi e della repressione si è rivelata direttamente proporzionale ai consumi tra i minori. Circa il 28% dei giovani italiani tra i 15 e i 19 anni consuma cannabis o altre sostanze. Il 6% ha cominciato prima dei 13 anni. Ma esiste un modo diverso di gestire le cose? Un modo che sia anche più efficace? Esiste e qualcuno l'ha già messo in atto. Non bisogna andare tanto lontano per trovare qualche modello. Il Portogallo per esempio è un paese che negli anni 90 ha dovuto fronteggiare una grave crisi legata agli alti tassi di morte per overdose in alcune città compresa la capitale Lisbona. Qui i quartieri dello spaccio erano diventati dei veri e propri ghetti all'interno dei quali scippi, crimini, degrado minacciavano la sicurezza di tutti. Invece di inasprire la repressione però si è deciso nel 2001 di decriminalizzare l'uso di ogni tipo di sostanza puntando a un approccio di intervento sociale e sanitario piuttosto che repressivo. E non a caso possiamo affermare a questo punto è il paese dove si registra una delle percentuali più basse d'Europa di giovani consumatori il 14% la metà esatta rispetto all'Italia. E allora forse vale la pena interrogarsi se per proteggere veramente i giovani non si è il caso di fare le cose in modo diverso. Si era interrogato su questo anche un magistrato Raffaele Cantone che da presidente dell'autorità nazionale anticorruzione aveva cominciato a riflettere sul fatto che forse proprio per il bene dei giovani bisognasse valutare la legalizzazione. Guardi io le devo dire che fino a poco tempo fa ero assolutamente contrario all'idea della legalizzazione perché non mi convincevano gran parte degli argomenti. Adesso ho un po' cambiato posizione. Adesso soprattutto quello che credo è che una legalizzazione che sia anche fatta in modo intelligente possa evitare secondo me il danno peggiore che riguarda i ragazzi cioè tante persone che entrano in contatto con ambienti della criminalità. Io credo che questo sia l'argomento che oggi mi porta a essere molto più laico rispetto a questa situazione. Naturalmente queste parole rilasciate nel 2016 suscitarono polemiche e Cantone non tornò mai più sulla questione negli anni successivi. Ma l'argomento di legalizzare per il bene dei giovani altrove ha fatto breccia e come. In Canada il più grande paese al mondo ad aver legalizzato è stato proprio il presidente Justin Trudeau ad utilizzarlo. Nel 2018 Trudeau si è intestato la campagna per la legalizzazione in prima persona e ha spiegato ai cittadini che anche lui all'inizio aveva grandi di perplessità ma poi ha capito che la legalizzazione era lo strumento migliore per tenere i ragazzi lontani della criminalità. legalizzare e regolare accesso a cannabis noi in pronto avremo un nuovo sistema in place uno che mantiene la cannabis fuori dei nostri bambini e mantiene i profitti fuori dell'organizzazione del crimine oggi sono piaci di annunciare che il nuovo regimio di cannabis di cannabis avremo in forza l'ottobre 17 di questo anno il nostro obiettivo è molto con un lenzio pubblico e un lenzio pubblico di salute di sicurezza di proteggere i nostri bambini di proteggere le comunità di sicurezza di riportare l'organizzazione del crimine che ora è il cale che è di sicurezza di sicurezza di proteggere i nostri bambini dice proprio così Trudeau assicurarsi di proteggere i nostri figli e infatti se andiamo a vedere cosa è successo ai giovani canadesi dopo la legalizzazione aveva ragione come emerge dai report del ministero della salute il consumo di cannabis tra i giovani in tre anni non è aumentato non ha inciso sugli incidenti stradali non ha causato disordini sociali ha influito invece sulla creazione di nuovi posti di lavoro e su un aumento dei versamenti nelle casse dello Stato e lo stesso è accaduto in Colorado il primo Stato americano ad aver legalizzato nel 2012 da allora il paese ha registrato una costante diminuzione del consumo tra i giovani oggi intorno al 20% la legalizzazione la legalizzazione insomma finora è l'unica misura in grado anche di allontanare i giovani dal consumo ma c'è di più ho letto che in Illinois che ha legalizzato nel gennaio del 2020 le tasse sulla cannabis hanno già portato 850.000 dollari alle scuole pubbliche nella città di Peoria infatti sono arrivati i fondi derivati dalla cannabis come parte del programma statale istituito per ricostruire le scuole del sud della città e per aiutare le comunità più colpite dalla guerra alla droga questo esempio è solo una delle moltissime storie positive di trasformazione sociale culturale ed economica che la legalizzazione ha portato nei paesi che hanno fatto questa scelta sono queste le cose di cui sarebbe bello parlare apertamente nel nostro paese e invece sembra che paghi di più alimentare le paure delle persone le paure capiamoci sono importanti in generale ma in particolare su questo tema serve ascoltarle discuterle controbatterle proprio per superarle spesso il mondo della politica e quello dell'informazione tendono ad agitare e amplificare le fake news sulla cannabis a polarizzare il dibattito rendendo ancora più difficile per i cittadini capire come stanno le cose la paura è come una stanza buia e ci sono due modi di affrontare una stanza buia il primo è fidarsi di quelli che si mettono a guardia della porta dicendo ci pensiamo noi a difendervi facendoci credere che lì dentro ci sia qualcosa di spaventoso e inaffrontabile sono gli sciacalli delle ansie collettive e sulla cannabis non faticherete a riconoscerli però c'è anche un altro modo di affrontare la stanza buia accendere la luce e vedere cosa c'è dentro perciò premiamo l'interruttore e affrontiamo lo spavento cominciamo dalle paure più serie quelle che riguardano la salute che sono le più delicate la cannabis è una sostanza che come ogni altra sostanza può creare dei danni soprattutto se se ne fa un abuso in giovane età dichiarare i rischi non vuol dire indebolire la propria posizione ma significa essere pronti a gestire un fenomeno complesso non essendo io un medico o una scienziata ne ho cercato uno vero che potesse aiutarci a chiarire le idee e ho chiamato Marco Martinelli che è ricercatore affiliato della scuola superiore Sant'Anna di Pisa partiamo da una cosa che non molti sanno è vero che il nostro organismo ha un sistema che si chiama sistema endocannabinoide che cos'è e a che cosa serve è verissimo è verissimo è un sistema molto complesso che diciamo è importante noi considerate che nel nostro organismo ci sono dei recettori che si chiamano recettori per i cannabinoidi a questi recettori per i cannabinoidi non si legano i cannabinoidi della pianta perché noi non li produciamo li produce solo la cannabis i cannabinoidi ma noi produciamo degli endocannabinoidi cioè delle molecole che sono diverse dal punto di vista chimico ma allo stesso modo simili perché si legano a questi recettori e entrano in tantissimi ruoli in tantissimi meccanismi dal sistema immunitario la regolazione del sistema immunitario allo sviluppo dell'embrione cioè il sistema endocannabinoide è importantissimo anche quando si sviluppa l'embrione ti faccio un'altra domanda una delle più grandi paure è quella che la cannabis sia un po' la porta di passaggio verso le droghe pesanti è vero? allora la maggior parte degli studi scientifici che sono presenti e qui si parla di metanalisi cioè studi che vengono confrontati con altri studi e quindi tantissime persone messe insieme ci dimostrano che non è così il fatto che una persona faccia uso di cannabis non implica per forza che poi passi a droghe più pesanti immaginiamo la cocaina l'eroina queste sostanze non sono connesse all'utilizzo di cannabis anzi il problema grande è l'educazione invece parliamo della famosa questione non so se è una leggenda metropolitana oppure no ora ce lo dirai tu i buchi nel cervello la cannabis crea i buchi nel cervello? no intanto fortunatamente quasi nulla crea buchi nel cervello ok diciamo che ci sono però delle sostanze effettivamente stupefacenti che possono danneggiare poi in modo se utilizzate anche in modo ripetuto o anche una sola volta purtroppo il cervello in modo irrimediabile non è il caso della cannabis la cannabis se uno nella vita volesse provarsi a fumare uno spinello anche con tanto THC per gioco oppure anche per motivi di salute non rischia certamente di avere questi effetti devastanti sul proprio cervello è chiaro che come tutte le cose è la dose che fa il veleno nel senso che un utilizzo troppo prolungato e abbondante di cannabis e soprattutto contenente alti livelli di THC per cui parliamo della cannabis medica o quella anche detta ludica laddove si può utilizzare dal punto di vista ludico ecco un utilizzo prolungato frequente soprattutto in età giovanile può in qualche modo andare a infastidire in qualche modo uno sviluppo corretto per esempio della corteccia orbito frontale quindi dei meccanismi cognitivi però parliamo di utilizzi veramente importanti quindi bisogna parlarne di droghe bisogna capire come gestirle soprattutto ma non bisogna spaventare le persone con queste frasi appunto come creare buchi nel corvello che non ha nessuna valenza scientifica peraltro ok un'altra cosa si muore di cannabis? no fortunatamente non si muore di cannabis la dose letale è impossibile praticamente calcolarla diciamo che quello che può succedere chiaramente se uno si strafa e purtroppo quando dico strafa intanto assume tanta cannabis e magari la associa anche ad altre sostanze come l'alcol può succedere che uno abbia delle conseguenze negative sulla propria salute ma non è mai morto nessuno di cannabis sono morte tantissime persone di alcol perché tra l'altro brevemente dico che la cannabis non va ad alterare i riflessi e le nostre capacità per esempio anche di guidare come fa l'alcol l'alcol le ammazza i nostri riflessi la cannabis no poi è chiaro che si parla in media una canna un bicchiere di vino fa molto peggio il bicchiere di vino se è chiaro parliamo di uno che se ne è fumato e quindici di cannabis contro uno che si è bevuto un bicchiere di vino probabilmente quello che si è fumato quindici canne è più difficoltà però parliamo sempre di cercare di comparare queste cose quindi assolutamente no non morirete di cannabis grazie Marco io ho finito con le domande c'è qualcos'altro che vuoi aggiungere che pensi sia importante far sapere anche il fatto che per esempio non incide più di tanto sul rendimento scolastico per cui bisogna chiaramente bisogna stare attenti quando i giovani le utilizzano però non vi ossessionate se è una canta ogni tanto non succede assolutamente nulla e soprattutto poi che non dà dipendenza se non una dipendenza psicologica non è letale come la nicotina perché la nicotina dà molta più dipendenza chiudo dicendo dicendo semplicemente Antonella grazie del lavoro che fai sei super e io sono sempre a tua disposizione quando vorrai naturalmente le paure per la salute non esauriscono lo spettro dei timori sulla cannabis che viaggiano e si sedimentano come leggende metropolitane sulle quali in fondo in fondo pare impossibile fugare ogni dubbio una volta ho sentito Maurizio Gasparri dire in tv che se fosse passato il referendum sulla legalizzazione allora gli autisti degli scuolabus avrebbero potuto guidare sballati e uccidere migliaia di ragazzini quella stessa notte ho sognato di essere su uno scuolabus guidato da un autista sballato che stava creando il panico questo per dire che certe immagini hanno davvero un forte impatto sull'inconscio delle persone e allora anche qui servirebbe un po' di luce sulla questione degli incidenti stradali per esempio a parte che la guida in stato di alterazione rimarrebbe punita così come è punita la guida in stato di ebbrezza ma un'occhiata ai dati è utile in Italia gli incidenti stradali causati da guida in stato di ebbrezza sono 10 volte di più di quelli causati dalla guida in stato di alterazione da ogni tipo di sostanza oltre 20 volte di più rispetto a quelli in cui il conducente sia stato trovato positivo alla cannabis insomma se avessimo la possibilità di parlare molte di queste ansie sparirebbero o sarebbero ridimensionate non è semplice parlare di cannabis ma non è neppure così difficile spesso i ragazzi provano ad autodenunciarsi a farsi scoprire dai genitori magari lasciando in giro un pezzo di fumo perché anche una scenata a volte è meglio del silenzio qualcuno la prende alla lontana e propone alla mamma di guardare insieme un documentario sulla storia del proibizionismo gran parte dei genitori si riduce a ispezioni furtive ad annusare i vestiti o a sbirciare il cellulare ma quanto è liberatorio parlare apertamente e soprattutto quale modo migliore che parlarne per non incorrere in inutili pericoli io ho una famiglia che mi ha appoggiato soltanto grazie a averne parlato non ho molto da dire ma vorrei ringraziare mia mamma che mi ha accompagnato con questa cioè mi ha capito la battaglia però soltanto grazie all'informazione sana su questo libro che ha letto anche lei ha capito la mia battaglia non fuma ma accetta quello che faccio e quello che stiamo facendo adesso questo audio non si sente benissimo ma ci tenevo a inserirlo qui perché è stato un momento molto emozionante di una manifestazione che abbiamo fatto con Meglio Legale a Milano quando un ragazzo ha preso la parola e ha ringraziato la mamma per averlo accompagnato ma soprattutto per aver fatto lo sforzo di capirlo anche lei si era arrabbiata quando aveva scoperto che il figlio fumava ma poi si era lasciata convincere a leggere un libro sulla cannabis e anche se ancora non condivideva la scelta del figlio aveva capito che il modo migliore di proteggerlo era farsi dire tutto e che sarebbe stato molto meglio che fosse legale per evitare che andasse dagli spacciatori può non piacere scoprire che tuo figlio fuma può far incazzare può deludere è normalissimo è umanissimo ma sappiamo per certo che criminalizzare i ragazzi finora non li ha protetti anzi il fatto è che nessuno deve pensare di aver rovinato tutto per sempre per un comportamento che in fondo solo nel nostro paese riguarda 6 milioni di persone c'è un modo diverso di gestire la situazione per prendersi cura di un adolescente spiegandogli i rischi di un abuso alla sua età illustrandogli i pericoli di entrare a contatto con la criminalità organizzata la storia di francesco avrebbe dovuto mettere una pietra sul progetto scuole sicure e invece i cani antidroga continuano a girare tra i banchi e non è vero che si parte dal consumatore per risalire al grande narcotrafficante i risultati di queste politiche ci hanno dimostrato che siamo sempre rimasti al piccolo al consumatore al ragazzino al paziente al massimo al piccolo spacciatore quanto inutile spreco di sofferenze sarà ancora necessario per aprire gli occhi e cambiare rotta io sono Antonella Soldo e avete ascoltato Tutto Fumo un podcast prodotto da Emons Record e meglio legale con il contributo di Enecta regia Paolo Girella studio di registrazione tracce.studio montaggio Luciano Zirilli supervisione editoriale Silvia Bellucci Pierluigi Gagliardi Paolo Girella e Maria Saracino grafica Giovanni Braiato e Stefano Gianfreda si ringraziano Radio Radicale e Marco Martinelli per i contributi